Ciao ragazzi eccoci tornati qua con la mia ragazza Federica Oggi siamo qua in una veste un po' differente Perché andremo a registrare una prova a non ridere E come vedete lei è super contenta di fare ciò Cioè lo era fino a che io non le ho detto che bisognava sputarsi l'acqua Sputarci sì L'acqua in faccia Queste saranno delle piccole inconvenienze di registrare in balcone Però un balcone di tutto rispetto ecco Oggi andremo a fare appunto questa prova a non ridere Quindi prendi la bottiglia d'acqua Diciamo che in teoria si dovrebbe decretare chi vince o meno Ma lo faremo non tanto con quanta acqua si sputa Ma con il numero di volte che sputi l'acqua Perché le bottiglie non sono uguali Ma scusa La prova a non ridere significa che io devo cercare di non ridere Sì Quindi vince chi ride di meno Sì Quindi perde chi ride di più Sì Quindi contiamo le volte che uno ride Per capire se quante volte hai riso e hai perso No abbiamo il mecc Abbiamo il mecc un po' lontanuccio Sperando non si senta Io spero però si senta con tutto sto bordello Aspetta Ma puzza sto coso NECO Non c'è l'acqua It's a cruise locker that anticipated to find the crack in the 64-year-old pipeline It was quickly impacted by the gushing of oil Can you tell us a little more of what you saw? And fuck her life is a Thanks Give it a crate All right I gotta be gonna be going for you All right I'll be going for you We're going for you So I'm going for you Oh my God Quello che c'è da dire è che tu non ridi perché non senti un cazzo, non te lo capisci. Questo ragazzi deve sentire troppo l'audio e Federica non capisce l'inglese, quindi per questo non ridi. Grazie al cazzo. Vediamo questo. It's Jesus. Tu non è che vissi, c'è un po' a ridere. Che cazzo? Non mi piace! Mmh mmh! Mmh! Hey, how's it going guys? And welcome to Best Trends. Today, we are going to be going over five Minecraft YouTubers who've sworn... Mmmh, no! No, 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 no Vomita Sì, non c'è Sì Sì Da quando finisce Questo dovevo togliermi i calzi Chi cazzo fa che adesso dobbiamo asciugare noi? Vedo Beh Ragazzi direi che il video possa concludersi qui Abbiamo fatto abbastanza schifo Credo abbia vinto Federica Però rispondete voi al sondaggio Secondo voi chi ha vinto e chi ha perso Lo deciderà il pubblico Ma se ho vinto io Se volete un altro video del genere Lasciate un mi piace 30.000 like Adesso noi andiamo ad asciugare tutto Ma come c'erano i capelli? Buoni Ce li hai Pensa a chi è più o meno fortunato di te Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti